Musica Ben ritrovati amici telespettatori per questa nuova puntata di Speciale Elezioni. Quella di oggi è una super puntata perché saranno ben tre i comuni che andremo a visitare. Il primo sarà il comune di Campri, il secondo quello di Mociano ed infine quello di Pineto. Ma andiamo subito a presentare il primo comune che è quello di Campri dove sono due i candidati alla carica di primo cittadino. Da una parte c'è Federico Agostinelli candidato con la lista Tutto Campri, mentre dall'altra c'è Maurizio Di Stefano con la lista Ricostruiamo Campri. Ma andiamo subito a sentire il primo ospite. Siamo in compagnia di Federico Agostinelli appoggiato dalla lista civica Tutto Campri. Agostinelli, come mai la scelta di candidarsi alla carica di primo cittadino? Un percorso iniziato nel 2009 come consigliere di opposizione, proseguito poi nel 2014 dove sono stato nominato dal sindaco quaresimale come assessore urbanistica e bilancio, consigliere provinciale di opposizione due anni fa, nel 2017. Ho sentito proprio il momento giusto per esprimere questa candidatura a sindaco, sostenuto da un gruppo di persone che mi danno fiducia, da tanti cittadini, una voglia che ho a 36 anni di mettere a disposizione tutto quello che è il mio bagaglio di esperienza politica, esperienza amministrativa della città di Campri. Ovviamente, purtroppo, Campri è stato gravemente danneggiato dall'ultimo sisma. Danni comunque che sono ancora oggi evidenti, lo vediamo qui in sala consigliare. Bisogna anche ripartire per la ricostruzione. Abbiamo vissuto cinque anni difficilissimi dove abbiamo fatto poco ordinare amministrazione e abbiamo dovuto gestire tante emergenze. Ricordo l'inverno del 2017, tempesta perfetta, non è mancato nulla. Da lì ci siamo corciati le maniche, siamo stati sempre presenti sul territorio, a disposizione di ogni cittadino. E oggi siamo chiamati a un compito importante, che è quello di pensare alla ricostruzione, a rigenerare anche da un punto di vista urbanistico Campri. Dobbiamo sfruttare l'opportunità che abbiamo di questo momento, perché comunque da un punto di vista proprio di rigenerazione di Campri può essere una buona opportunità. Non bisogna fare scelte sbagliate. Siamo pronti per poter amministrare questo comune in modo tale da farlo veramente ancora di più promuovere a livello provinciale e regionale. Come giustamente diceva lei, il problema è stato anche la questione del dissesto idrogeologico. Castelnuovo è una situazione assolutamente drammatica, ma purtroppo che non riguarda solamente Castelnuovo. Purtroppo no. Mi ricordo una mattina dove eravamo a Pastinella, insomma era il 2015, c'è stato il dissesto di Paduli, ci sono tante altre zone del nostro territorio che hanno problemi con il dissesto idrogeologico. e poi c'è la situazione più grave che è stata quella di Castelnuovo dove si è sfiorata veramente una tragedia. Per fortuna non ci sono state grosse conseguenze da un punto di vista di danni alle persone, ma è un intero quartiere che se andate a vederlo è diverso, non ci sono più case, c'è insomma un forte impatto emotivo per chi come me ha vissuto in quei luoghi già da quando ero piccolissimo e c'è una ricostruzione, una gestione del dissesto importantissima che dobbiamo fare. Proprio notizia di poco fa il finanziamento della messa in sicurezza della chiesa di San Giovanni a Castelnuovo, credo sia anche lì un buon segnale perché poi una popolazione, un territorio deve ripartire proprio da essere comunità, da farlo tenendo in considerazione quelli che sono i luoghi più importanti e la chiesa di San Giovanni dove io ho fatto comunione, Cresima, insomma dove sono cresciuto da un punto di vista cattolico, credo sia un bel segnale che possiamo dare alla cittadinanza, a quella frazione. Il Comune di Campi è un comune, possiamo definirlo, ricco dal punto di vista culturale, no gastronomico, c'è veramente di tutto. C'è tanto e siamo riusciti ad entrare nei borghi più belli d'Italia nel settembre del 2018 con un percorso che abbiamo fatto e costruito con l'aggiunta di Pietro Quaresimale. Dobbiamo adesso proseguire in quella direzione, vedere nei giorni di festa tanti turisti, l'ufficio turistico aperto. è stato un segnale importante del lavoro svolto nei cinque anni, proprio per questo non possiamo tornare indietro. Sono convinto che tanti campesi vorranno proseguire questo percorso e dobbiamo farlo investendo ancora di più nella promozione del nostro bel territorio. Le manifestazioni quanto sono importanti per un comune così, possiamo anche definirlo piccolo ma ricco? Sono molto importanti perché sono dei momenti in cui si mostra un po' il proprio territorio, il lavoro che si fa nel corso dei giorni del quotidiano. Quindi è un momento dove Campi riesce a essere messa in mostra e riesce un po' a dare la possibilità a tutti coloro che vengono di vedere quelle che sono le proprie bellezze. C'è la Scala Santa, c'è il Duomo, ma ci sono veramente tante cose, non solo a Campi Centro ma anche nelle frazioni di Campi e lì dobbiamo continuare a insistere, a promuovere, a creare anche eventi belli come è stato quello della PFM nel settembre scorso, che sono dei momenti di apice che insieme alla Sagra della Porchetta e a tutte le altre sagre del nostro territorio sono assolutamente fondamentali per promuovere Campi e tutte le sue bellezze. L'Europa quanto è importante? Oggigiorno vi si è considerato che purtroppo i comuni soffrono della questione della crisi economica, un pochettino, le risorse sono sempre meno. saper fare i progetti, saper entrare in Europa, quanto può essere importante per un comune? È fondamentale, io quando mi sono laureato ho fatto proprio uno studio e una ricerca sugli uffici Europa, su come i comuni e gli enti locali amministrano e gesiscono le risorse europee. Ovviamente il livello locale di un comune piccolo come Campi non è il livello ideale per poter gestire i fondi comunitari, ma si può fare tanto. Abbiamo creato un ufficio Europa che va potenziato, sviluppato, ovviamente con il supporto della Regione e in questo avere un consigliere regionale come Pietro Guarisimale, che è stato sindaco di Campi, deve essere un'opportunità da accogliere nei prossimi cinque anni. Dobbiamo comunque continuare a insistere su questa linea, sul finanziamento europeo, perché comunque quel qualcosa che possiamo fare lo dobbiamo fare anche come comuni piccoli, perché oggi le risorse che i comuni hanno a disposizione sono poche, e utilizzare e non rimandare indietro i fondi comunitari sicuramente è un altro obiettivo importante che un sindaco, un'amministrazione comunale deve fare. Lei ha voluto precisare che si tratta di una lista civica, non di uno schieramento politico, perché comunque all'interno della sua formazione ci sono anche esponenti di centro-sinistra e centro-destra. Una squadra che comunque ha voglia di crescere, di partire, ci sono anche esponenti esperti all'interno della sua formazione. Sì, grazie che mi dai l'opportunità di parlare un po' di questo, perché ci tengo a dire che il nostro progetto civico parte dal 2009, è un progetto che è nato con la candidatura di Antonio Francioni la prima volta e con quella di Pietro Quaresimale dopo. Prosegue questo progetto a tutto Campli con me candidato sindaco, ma è una squadra che vede quattro amministratori della passata amministrazione, ma otto visi nuovi, che sono giovani, donne, che rappresentano un po' tutto il territorio del comune di Campli, perché al centro c'è un progetto, un progetto che vede Campli come punto focale di questa azione amministrativa che dobbiamo andare avanti e proseguire, andare oltre il mio slogan, perché vogliamo partire da tutto quello che di buono abbiamo fatto nella passata amministrazione, migliorare le cose che sono andate meno bene. C'è tanto da fare, una squadra che ha come caratteristica quella di avere la voglia di impegnarsi, di mettere a disposizione, di proprio sapere il proprio tempo della comunità, e credo che sia fondamentale in questi giorni che mancano da qui al 26 maggio continuare questa presenza, questa conoscenza con tutto il territorio, con le associazioni, con i cittadini, perché credo che questo progetto sarà un progetto vincente di tutta Campli. Se lei dovesse essere scelto dei cittadini Campli come futuro sindaco, qual è la prima cosa che faranno appena insediato? Sono tante priorità, la ricostruzione e riportare tanti cittadini il prima possibile nelle loro case per quelle che saranno le possibilità dei comuni, il nuovo polo scolastico, la messa in sicurezza delle scuole del nostro territorio, la promozione di Campli da un mondo di vista turistico, e poi anche cose più piccole, perché un comune deve occuparsi anche di tante altre piccole cose, ci sono delle piazze da ultimare, credo che tutto pronto, sono cose concrete, visibili, di impatto, i primi 15 giorni le dobbiamo far partire, perché poi dobbiamo dare l'idea già da subito della voglia che abbiamo, della voglia da mettere in campo, e dobbiamo insistere da subito, perché mi sono reso conto nella passata amministrazione, che per fortuna siamo partiti subito molto bene, abbiamo subito fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità, perché poi le emergenze e gli imprevisti sono dietro l'angolo, e in quei periodi sicuramente dobbiamo pensare a quella gestione. Io mi auguro che non ci sia un mandato come il precedente, da un punto di vista di difficoltà, terremoti, dissesti e quant'altro, perché abbiamo tanto da fare, ma abbiamo anche la voglia e la competenza per poterlo fare. Io faccio sempre un esempio, la ricostruzione 2009 ferma quando c'era anche il mio competitor elettorale, vice sindaco della Giunta Giovannini, mi sono corciato le maniche da subito e le 50 pratiche del terremoto 2009 le ho tutte ultimate nel corso dei due anni. Quindi questa esperienza che ho messo in campo la voglio continuare a mettere in campo per i miei cittadini, per le mie Campli, perché credo che nei cinque anni posso dare ancora molto. Hai parlato di polo scolastico, un progetto molto importante, presentato dall'ex Giunta. Presentato da noi, è un progetto che deve partire, deve partire con il coinvolgimento di tanti genitori, della scuola, dei cittadini, perché deve essere un progetto, non di Federico Agostinelli, ma di Campli, che deve rimanere negli anni, che deve essere sicuro, perché la messa in sicurezza degli edifici scolastici è la possibilità da dare a tanti ragazzi che andranno a scuola qui a Campli nel corso degli anni, deve essere un punto centrale dell'azione amministrativa. Ci tengo tantissimo, credo di seguirla in prima persona, perché è un progetto che riguarda, ripeto, tutta Campli, e sono certo che tra qualche anno avremo un polo scolastico fiore all'occhiello di questa provincia. Giovani e lavoro? Tema difficilissimo, abbiamo delle proposte che abbiamo inserito nel programma, vogliamo dare quello che è il supporto che un comune può dare, ovviamente, perché anche qui parliamo di politiche del lavoro, che sono politiche regionali, però abbiamo dei piccoli incentivi, delle piccole belle iniziative che nel nostro programma abbiamo inserito, che vogliamo lanciare. Chi assumerà qualcuno, qualche ragazzo del comune di Campli, sicuramente avrà dei bonus che come amministrazione comunale daremo, ed è un modo simpatico per dare un segnale importante e un messaggio che l'amministrazione comunale di Campli è vicino anche a chi non ha lavoro, perché trattato in questo modo credo sia importante ed è un tema che va affrontato con la dovuta calma, però qualche iniziativa importante come abbiamo fatto nella passata amministrazione sulla scontotari, mi ricordo che siamo andati sul sole 24 ore per essere stato il primo comune a dare delle agevolazioni alle nuove attività che venivano a Campli, ecco, credo che dobbiamo continuare in quella direzione perché quel poco che possiamo fare lo dobbiamo fare. Agostinelli, l'intervista è quasi terminata, perché i cittadini camplesi devono scegliere lei? Devono scegliere Federico Agostinelli, la lista a tutto Campli perché credo che rappresentiamo la continuità dei cinque anni che abbiamo avuto qui nel nostro comune, siamo stati sempre presenti, lo continueremo ad essere, siamo stati sui problemi e li abbiamo saputi risolvere e abbiamo ancora tante idee da mettere in campo per cercare di avere nel 2024 una Campli diversa, più bella ancora di quella che abbiamo che è ripartita e ha superato le difficoltà attuali. Grazie mille a Federico Agostinelli, candidato sindaco della lista civica a tutto Campli. Siamo in compagnia di Maurizio Di Stefano, appoggiato dalla lista Ricostruiamo Campli. Di Stefano, come mai la scelta di tornare nel mondo della politica? Ma in effetti il mondo della politica non l'ho mai abbandonato, nel senso che io sono un appassionato di politica e quindi ho sempre svolto attività in questo ambito. sono stato vice sindaco di questo comune dal 2009 al 2014 un gruppo di amici di persone, di giovani stanno puntando su di me mi hanno spinto mi stanno sostenendo affinché io mi candidassi cosa che poi è avvenuta e quindi insomma l'impegno è proprio quello civico di mettersi a disposizione con una lista civica di persone giovani competenti per portare un profondo rinnovamento e cambiamento nel comune di Campli questo è quello che vogliamo fare e stiamo vedendo che i cittadini camplesi stanno apprezzando questo nostro progetto. Il nome della sua lista civica è Ricostruiamo Campli la ricostruzione è un argomento molto importante per questo comune e vediamo i segni comunque che ci sono causati dal terremoto. Sì, siamo in un edificio comunale nella sede municipale Palazzo Farnese che porta i segni delle ferite del terremoto è un palazzo che ha subito degli interventi di messa in sicurezza la ricostruzione è un tema importantissimo ci sono tante persone che non sono nelle loro abitazioni in quanto danneggiate dal sisma l'obiettivo principale è quello di ricostruire quindi di riparare le abitazioni il più breve tempo possibile per fare questo ci vogliono persone competenti io ho competenze specifiche in questo ambito svolgendo il mio compito e il mio lavoro di funzionare dei vigili del fuoco da ormai 30 anni quindi svolgo attività di tipo tecnica amministrativa in particolar modo in quelli che sono poi gli eventi calamitosi e quindi dover poi intervenire su un territorio ferito come quello di Campli richiede anche competenze specifiche cosa che io posso ovviamente mettere in campo oltre alla ricostruzione causata dal terremoto c'è anche il problema del sistema idrogeologico che purtroppo ha creato tantissimi danni come nella frazione di Castelnuovo sì in effetti nella frazione di Castelnuovo si è verificata una frana un crollo di una parete di un versante che ha fatto sì che molte abitazioni circa 30 fossero sgombrate e gli edifici successivamente demoliti quindi attualmente quella porzione di Castelnuovo è vuota dagli edifici che c'erano precedentemente questo cosa comporta? comporta che gli abitanti siano poi stati trasferiti o in strutture provvisorie oppure in autonoma sistemazione e quindi attualmente c'è da ricostruire quella comunità al contrario rispetto alla frazione di Ponzano di Città dell'Eltronto dove il comune già da tempo ha avviato una serie di procedure che hanno portato all'individuazione dell'area dove ricostruire la nuova Ponzano qui a Castelnuovo invece non c'è una situazione di questo tipo il comune di Campi non ha ancora fatto nulla per quanto riguarda l'individuazione dell'area dove ricostruire le abitazioni e quindi noi ci poniamo invece con un obiettivo preciso quello di fare in modo che nel più breve tempo possibile con la partecipazione di un comitato che si è costituito che Castelnuovo nel cuore e dei cittadini di Castelnuovo individuare un'area idonea dove con procedure rapide efficaci si possa poi effettivamente ricostruire quella zona di Castelnuovo che attualmente è stata svuotata Possiamo dire che il comune di Campi è un comune ricco dal punto di vista enogastronomico e dal punto di vista culturale? Beh io direi che è un comune molto ricco abbiamo delle peculiarità rilevanti e abbiamo delle persone che stanno investendo sul turismo dovrà farlo anche il comune di Campi ma non soltanto con la partecipazione a fiere costose con sperpero spesso di denaro pubblico sì ovviamente occorre la promozione turistica su quella punteremo moltissimo la faremo in maniera mirata senza dispendio di risorse inutili ma bensì impiegandole al meglio queste risorse abbiamo una ricchezza che è quella della porchetta italica e con la Prologo punteremo appunto a valorizzarle al meglio abbiamo in mente di avere un marchio di qualità cosa che ad oggi manca che potrà valorizzarle e poi una filiera che sia locale per dare anche possibilità di occupazione a tanti giovani che oggi invece questa occupazione non ce l'hanno e poi abbiamo un borgo di qualità il sindaco Orisimale precedentemente si era impegnato per ottenere per ottenere riconoscimento di uno dei borghi più belli d'Italia cosa che è avvenuto questa cosa ovviamente non può farci che piacere ma non è sufficiente un insegna per poi cambiare quello che è l'afflusso turistico in una località bella ma ferita come quella di Campli ci vogliono strategie nuove importanti di promozione turistica abbiamo in mente di fare tutto questo creare un brand di Campli e fare in modo che anche con accordi con Civitella del Tronto che ha peculiarità speculari rispetto a quelle di Campli ci sia un progetto univoco che metta a disposizione i beni che queste due realtà hanno sul loro territorio in termini sia enogastronomici ma di storia e cultura abbiamo due borghi eccezionali e quindi con un'attività mirata fatta insieme potremmo ottenere l'obiettivo principale che è quello di fare in modo che il turista permanga sul territorio più giorni in maniera che ci sia anche poi risorse che arrivino a Campli così come a Civitella e questo non può essere che un vantaggio comune per lei l'argomento Europa che argomento è? ma è un argomento importantissimo qui al Comune di Campli è stato creato un ufficio Europa con un delegato abbiamo le insegne qui sotto al palazzo comunale che è Luca Di Girolamo io vorrei oggi candidato nell'altra lista mi farebbe piacere sapere questa attività di questo ufficio in che cosa è consistita quali sono stati i progetti sviluppati quali sono stati i fondi ottenuti al momento non ho notizia di nulla del genere quindi mi farebbe piacere saperlo noi su questo punteremo lo faremo in modo da poter fare dei progetti integrati come dicevo prima ad esempio con Civitella o con altre realtà per fare in modo che ci siano dei progetti reali applicabili su cui presentare proposte per ottenere fondi da poter poi impiegare sul territorio e valorizzare i beni che abbiamo faccio un esempio per tutti c'è il parco archeologico di Campovalano che al momento è visitabile ma è un parco che ha un'ampia area non ha ancora oggetto di scavi dove ci sono tante tombe con i reperti e qui si potrebbe attivare con delle università di archeologia dei campi di scavo per fare in modo che persone vengano qui a Campi svolgano questa attività e ci potrebbe essere un interesse sia da parte dell'università sia da parte di Campi stessa che squadra si è preparato per affrontare queste elezioni amministrative? una squadra che a me piace molto e sta riscuotendo l'apprezzamento di molti cittadini come ho detto prima profondo rinnovamento e campiamento ci sono io che ho esperienze già pregresse come dicevo prima come vice sindaco di questo comune c'è un altro componente della lista che ha avuto esperienze come assessore ma non nelle ultime tornate e poi ci sono altre 11 persone che sono tutte prevalentemente giovani che hanno titoli di studio stanno per conseguire lauree anche utili per quanto riguarda il percorso amministrativo da fare successivamente sono particolarmente motivate queste persone serie, competenti e hanno un potenziale di crescita notevole magari questo non posso riscontrare nella lista dove sono spesso dei candidati che sono a un punto della carriera politica che immagino sia al termine e quindi magari in questo caso non c'è la possibilità poi di dare un apporto importante a quella che è la vita amministrativa del comune di Campi nel mio caso nella mia lista ho queste energie fresche giovani con un potenziale di crescita davvero notevole giovani e lavoro un argomento che comunque è molto importante soprattutto per un comune così piccolino anche sì sul lavoro i comuni fanno spesso poco e questo comune ha fatto veramente poco noi abbiamo perso negli ultimi anni 100 posti di lavoro qui a Campi per una comunità di 7200 abitanti è un problema serio il comune è vero che non può fare politiche forti per quanto riguarda l'aspetto dell'incentivazione di quella che è l'attività di lavoro nel suo territorio ma è vero anche che quando ci sono delle aziende in crisi può chiedere l'apertura di tavoli può far sentire forte la sua voce e in questo caso non è avvenuto noi abbiamo avuto 3 aziende che hanno chiuso 100 posti di lavoro persi senza che il comune abbia battuto ciglio questo come la vedo io è inconcepibile è tutto inconcepibile noi vogliamo invece fare in modo che sul nostro territorio arrivino aziende si insedino e che quelle che ci sono attualmente rimangano qui garantendo ancora quell'offerta di lavoro che in passato hanno messo a disposizione il nostro territorio per fare questo cercheremo di abbassare le imposte comunali abbattendole del tutto per favorire l'insediamento di nuove attività e poi le favoriremo come? evitando tutti quei passaggi burocratici che spesso fanno sì che le aziende non si insediano in un determinato territorio quindi agevolando da questo punto di vista il percorso amministrativo per ottenere quei pareri quelle autorizzazioni che poi sono necessarie per potersi insediare effettivamente un altro argomento molto sentito è la questione del polo scolastico che comunque era stato presentato anche dalla passata amministrazione secondo lei? sì ahimè il polo scolastico era stato presentato era stato anche enfatizzata questa realizzazione pubblicizzando il fatto che erano stati eseguiti di sondaggi quasi un anno fa da allora non si è avuta più notizia di nessuna attività e quindi qui occorrerà da parte dell'amministrazione che sarà chiamata ad amministrare i campi un impegno forte perché c'è bisogno di avere scuole sicure accoglienti e come ho detto in qualche incontro che abbiamo fatto in questi giorni anche belle perché è giusto che i bambini si ritrovano poi in ambienti che siano accoglienti dove possono stare serenamente e svolgere attività interessanti quindi l'impegno nostro è quello di recuperare questo ritardo che in effetti c'è lo faremo con il massimo impegno io ho competenze specifiche come dicevo prima ho relazioni con gli uffici che si occuperanno poi all'altro livello di autorizzare questa realizzazione faremo in modo che i tempi siano brevi e che la realizzazione sia una realizzazione veramente utile per il futuro di campi e dei bambini che dovranno essere accolti in quegli edifici se i campesi dovessero scegliere lei come futuro sindaco qual è la prima cosa che lei farà non appena insediata ma ci sono un paio di attività che abbiamo già annunciato che sono veramente urgenti la passata amministrazione ha affidato i cimiteri a una gestione privata per 25 anni con aumento dei costi esorbitanti per le varie attività che si fanno all'interno di un cimitero noi riteniamo che questa cosa non sia accettabile quindi una delle prime cose che faremo è quella di utilizzare le risorse che devono essere destinate al comune di Campli per poter abbassare queste tariffe e rivedremo anche quell'affidamento per capire se ci sono dei margini per poter appunto procedere con una gestione differente altra cosa in questi giorni il commissario che ovviamente svolge il suo compito per garantire gli equilibri di finanza ha deliberato l'aumento del costo del trasporto dei pulmini da 60 euro l'importo precedente fino a un massimo di 450 euro in base al reddito ISE questo significherà per le famiglie che hanno un reddito di un certo tipo ma senza andare troppo in alto pagare quote eccessive per il trasporto degli alunni significherà inoltre che queste persone che dovranno utilizzare il trasporto dovranno poi effettivamente versare delle somme ma dopo aver fatto il reddito ISE spesso sappiamo che è un percorso ad ostacoli l'ottenimento della certificazione ISE quindi modificheremo questa delibera appena possibile per fare in modo che il costo dei pulmini torni ad essere accettabile Di Stefano siamo arrivati quasi alla fine di questa lunga intervista qual è il messaggio che vuole dare i cittadini campesi ma il messaggio è molto semplice io sono conosciuto dei cittadini campesi sanno come mi sono comportato nei cinque anni di amministrazione dove ho svolto il ruolo di vice sindaco credo che sia stato anche abbastanza apprezzato questo mio impegno io ho fiducia nei cittadini campesi perché la squadra che abbiamo messo in campo è una squadra di persone giovani competenti serie che potranno davvero costituire un elemento di rinnovamento di cambiamento per il comune di Campli e sono sicuro che questo messaggio che sta passando forte e chiaro verrà molto apprezzato dai camplesi e ci daranno la loro fiducia grazie mille a Maurizio Di Stefano candidato alla carica di primo cittadino con la lista ricostruiamo Campli quindi adesso diamo spazio al prossimo ospite eccoci ritrovati amici telespettatori adesso siamo all'interno del comune di Mosciano Sant'Angelo qui a Mosciano sono tre i candidati alla carica di primo cittadino sindaco uscente Giuliano Galiffi appoggiato dalla lista Mosciano Democratica poi c'è Maria Cristina Cianella appoggiata dalla lista Obiettivo Mosciano ed infine Teseo Potenza appoggiato dalla lista Azione Politica ma andiamo subito a intervistarli e per vedere con loro il programma che hanno ideato per questa città con il sindaco uscente Giuliano Galiffi appoggiato dalla lista Mosciano Democratica bisogna continuare un percorso è questa la sua idea di candidatura quando mi hanno chiesto quando mi ha chiesto un'organizzazione di Mosciano Democratica che io ho accettato responsabilmente di portare avanti tutto il lavoro che abbiamo messo in campo nel quinquennio che si è concluso infatti il programma dei cinque anni del 2014 in quel programma si parlava di due si parlava di due indirizzi principali per l'attività amministrativa una di guardare al quotidiano le emergenze a quando sarebbe potuto accadere e quando era giusto fare nella quotidianità e poi anche i grandi progetti le grandi risoluzioni delle problematiche annose da portare avanti che sarebbero andate oltre ben oltre il quinquennio dell'amministrazione quindi si parlava di dieci anni in questi cinque anni quindi poi lavorando su questi due filoni diciamo qualcosa c'è stato anche di imprevisto di grave imprevisto a partire dalle calamità dai terremoti dalle alluvioni dalle frane che già erano in atta e si sono aggravate e le nevicate eccezionali del 2017 quindi tutta una serie di inconvenienti ma anche di mancato rispetto di alcune convenzioni da parte dei contraenti dell'ente che hanno ritardato l'azione per le cose più grandi ma dalle quali non ci siamo mai distolti e quindi abbiamo sempre lavorato per la risoluzione dei problemi grandi tipo quella della discarica di Santa Maria Assunta che appena insediata ci è pervenuta la nota della regione di dover immediatamente provvedere alla sistemazione ma non avevamo né un progetto esecutivo né i fondi io come amministrazione ci siamo attivati affinché la regione mettesse del suo in questa discarica per la bonifica in quanto negli anni di apertura era stata a servizio della collettività maggiormente regionale e anche provinciale c'erano state delle ordinanze dei decreti che imponevano al comune di dover raccogliere il rifiuto di diverse località e nel 2003 quando venne chiusa fu prescritta di riaprirla per sei mesi si è incappata diciamo nella disposizione della legge 36 per le bonifiche che prevedeva un piano decennale di accantonamento degli indroiti per poterlo bonificare ma decennale non c'è stato perché ha durato soltanto sei mesi quindi a fronte di questa situazione imposta da enti superiori non poteva che essere diciamo competenza degli enti superiori quindi la regione ci siamo attivati alla ricerca del finanziamento che poi c'è stato prima con il master plan ma poi con il Cipe siamo andati anche noi come comune a smuovere le acque al Cipe e alla fine la provincia di Teramo le quattro discarie nella provincia di Teramo da bonificare hanno percepito un beneficio ministeriale un finanziamento ministeriale quello maggiore al comune di Mociano di sei milioni e mezzo ma per arrivare a sei milioni e mezzo sono passati tre anni tre anni nei quali non c'era il finanziamento era soltanto parziale avevamo redatto un progetto tre anni fa che la regione essendo troppo eccessivo come costi non approvò ci disse di ridurlo l'avevamo ridotto abbiamo fatto ben sei versioni progettuali sei versioni progettuali che poi non venivano sistematicamente con il palleggio tra l'Arta e la regione servizi o rifiuti non venivano non venivano approvate da entrambi queste due enti queste due istituzioni e quello che diceva la regione non andava bene all'Arta alla fine siamo arrivati dopo la sesta il sesto la sesta diciamo versione progettuale al costo iniziale di sei milioni e mezzo cioè se avessero accettato subito il nostro progetto le nostre proposte tre anni fa questa cosa sarebbe già stata pronta invece siamo andati lunghi con tutte le pratiche la progettazione definitiva è stata approvata a fine anno del 2018 a febbraio del 2019 abbiamo sottoscritto la convenzione con la regione per spendere quei sei milioni e mezzo naturalmente bisogna fare delle gare delle procedure europee per poter diciamo attivare tutta la diciamo l'attività di inizio lavoro e durante quest'anno necessariamente la pratica si dovrà chiudere per poter finalmente porre fine per cominciare i lavori per cominciare i lavori di bonifica purtroppo le procedure sono lunghissime ci sta la novità la grossa novità dell'anticorruzione che ha imposto ai comuni piccoli esclusi i comuni grandi quello di capoluogo di fare le centrali di committenza le centrali di committenza sono degli uffici delle strutture che pensano a fare la stazione appaltante stazione appaltante che non possono essere più comuni quindi procedure lunghe per la scelta dei progettisti procedure lunghe per la scelta dei che comunque sono procedure europee comunque lunghe ma se potessero direttamente fare gli uffici comunali si accedererebbe certamente di più purtroppo dobbiamo sottostare a queste condizioni e la tempistica di tutta l'attività amministrativa in questi cinque anni si è portata avanti con lungaggini anche insopportabili purtroppo le regole le leggi vanno rispettate e così noi non è che possiamo inventarci leggi comunali abbiamo quelle dello Stato quelle sui contratti pubblici sui lavori pubblici sui appalti servizi e forniture che vanno comunque e per qualsiasi cosa anche per la progettazione delle scuole abbiamo perso più di un anno per dare l'incarico progettazione di una scuola nuova abbiamo perso un anno avevamo dei soldini che poi con il terremoto sono stati distolti come impegno per progettare la nuova scuola unica nonostante tutte queste difficoltà non ci siamo mai sottratti di portare avanti l'iniziativa alla fine per quanto riguarda nonostante le lungaggini siamo riusciti ad approvare un progetto esecutivo candidabile anche per la scuola elementare unica del capoluogo l'abbiamo presentata all'INA per un finanziamento da parte dell'INA il patrimonio come interventi di alta valenza sociale e questo sta in istruttoria dovrebbe essere diciamo finanziato ma abbiamo finanziato a un costo conveniente ma sicuramente interessante importante per il bilancio dell'ente invece con lo stesso progetto abbiamo pensato anche di presentarlo alla MIUR c'è stato un bando per l'edilizia scolastica in Abruzzo e anche lì ci siamo messi in buona posizione se la graduatoria dovesse essere rifinanziata in quanto è un bando triennale 18 19 20 potremmo sperare di accedere al finanziamento gratuito stiamo caldeggiando queste due situazioni le attenzioniamo vediamo di decidere quale potrebbe essere la soluzione sono stati comunque cinque anni in cui voi avete dovuto correre dietro l'emergenza correre dietro l'emergenza e seminare tanto i frutti sono imminenti sono in procedura di arrivo ma difficilmente qualcosa si vedrà subito ma nel prossimo mese nei prossimi mesi tante oper tanti cantieri dovranno essere aperti quindi poi abbiamo lavorato anche tanto in campo sociale in campo sociale una tematica importantissima dove il comune di Mociano noi arriviamo nel nel consorzio d'ambito di tre comuni Mociano Bellante Giulianova per legge la regione ha legiferato di modificare questi ambiti siamo diventati sei comuni adesso c'è anche Roseto Notaresco e Morrodoro e abbiamo costituito l'ambito l'unione dell'ambito sociale abbiamo costituito questa unione in quattro comuni dove due comuni sono venuti in convenzione e quattro rappresentano la governance dell'unione dei comuni qui molti servizi sono stati messi in campo richiesti di finanziamento c'è stato un finanziamento di 600 mila euro di Abruzzo Include che vedrà in questi giorni i primi risultati saranno chiamati oltre 20 qui in comune di Mociano 20 interessati per partecipare a questo progetto 8 lavoreranno con il comune gli altri saranno chiamati delle imprese un finanziamento di 6 mesi per l'avvio al lavoro nei progetti di tirocinio per avviare anche delle attività produttive queste possibili diciamo dare futuro a chi cerca lavoro e quindi un impegno anche qui molto forte un impegno forte anche con la spesa sociale con la rivisitazione delle fasce ISEE abbiamo dovuto rivedere un po' tutta la panoramica per quanto riguarda l'asilo nido l'asilo nido che prima aveva soltanto 35-40 bambini adesso siamo arrivati a 50 a 50 e con una spesa maggiore dalla quale non ci sottraiamo l'abbiamo pianificata nel triennio nel bilancio 19 bilancio 20 bilancio 21 questa maggiore spesa perché intendiamo prestare massima attenzione alle famiglie affinché possano soffrire del servizio nel miglior modo possibile affinché si possa dare un aiuto anche a chi deve lavorare non può permettersi il lusso di pagare qualcuno a casa e quindi questa assistenza benché più costosa non solo per l'aumento del numero ma anche per la rivisitazione delle fasce 6 non ci siamo sottratti come impegno di dare questo servizio importante alla collettività sempre in campo sociale abbiamo mantenuto attività di dopo scuola presso la struttura del Peter Pan qui una struttura che è gestita da una cooperativa alla quale è stata affidata in seguito a regolare diciamo gara e anche lì sono circa 70 bambini non è una sono cose che 70 ragazzi che magari anziché andare non hanno possibilità nelle famiglie dopo nel pomeriggio di essere assistite dai genitori non hanno tempo di seguirli anche lì diamo una grossa risposta dal punto di vista sociale cosa che benché costosa cerchiamo di comunque di diciamo di portare avanti a tutti i costi perché sociale dato il degrado di questi ultimi tempi diciamo problemi a livello familiare ce ne sono diversi situazioni che potrebbero diventare ben più gravi pensiamo di avere il dovere di assistere questi aspetti importanti che riguardano le famiglie sono la prima base della società sindaco siamo arrivati alla fine di questa lunga intervista qual è il messaggio che vuole dare ai suoi cittadini perché devono scegliere nuovamente lei perché abbiamo tante cose da portare avanti e conosciamo i problemi dove intervenire sono tantissime le cose ne abbiamo detto solo una parte e sinceramente interrompere quest'azione sarebbe la cosa più grave che il comune di Mociano potrebbe al comune potrebbe accadere quindi tante sono le cose da portare avanti tante sono quelle ancora nuove tante quelle da completare ma sono in campo tutte e veramente sarebbe ingiusto che non potessimo noi continuare a farle grazie mille a Giuliano Galiffi candidato con la lista Mociano Democratica ma adesso diamo spazio al secondo ospite eccoci ritrovati amici telespettatori adesso siamo in compagnia con l'altra candidata al comune di Mociano siamo in compagnia di Maria Cristina Cianella appoggiata dal lista obiettivo Mociano è un progetto importante perché lei comunque è stata per dieci anni all'opposizione quindi sa come funziona la macchina politica qual è il primo intervento e soprattutto perché ha deciso di candidarsi come primo cittadino allora al di là dell'impegno innanzitutto salve a tutti al di là dell'impegno politico che mi ha vista protagonista in questi dieci anni nei banchi dell'opposizione l'impegno è la voglia di candidarmi e prima di tutto di tipo sociale io ho 41 anni sono la mamma di un bambino di tre anni e mezzo sono una moglie e sono una professionista e mi rendo conto che c'è la necessità di dare delle risposte a tutte le categorie che ho detto quindi come comune il comune di Mociano adesso deve veramente vivere un momento di slancio per dare risposte alle famiglie ai bambini alle giovani coppie e anche ai professionisti di cui tra l'altro il territorio pullula quindi nei banchi dell'opposizione in questi dieci anni sicuramente ho maturato una consapevolezza e l'attitudine a quello che poi deve essere insomma la propensione per l'amministrazione per una buona amministrazione i motivi però ecco sono anche etici nel senso che se le cose devono cambiare bisogna avere un impegno diretto e concreto e quindi era giusto che si potesse ottimizzare il lavoro svolto dai banchi dell'opposizione facendo un salto di qualità e lo devo dire tutta il salto di qualità è venuto anche grazie all'ausilio di un'altra collega dei banchi dell'opposizione che è l'avvocato Nadia Baldini che l'altra volta si è presentata in una lista diversa rispetto alla mia invece abbiamo fatto un percorso unitario abbiamo capito che l'unità di intenti poteva viaggiare anche con l'unità dei numeri e delle forze e insieme alla collega Nadia Baldini ma tutti i candidati consiglieri ma anche a tutte le forze civiche e liberali democratiche è nato il progetto proprio Obiettivo Mociano che ha un unico obiettivo la nostra collettività ovviamente purtroppo i comuni della provincia di Terra hanno sofferto in questi anni perché c'è stato il terremoto c'è stato il maltempo ci sono stati problemi che sono emersi dopo tantissimi anni come quello del distesto idrogeologico un problema che purtroppo riguarda anche Mociano purtroppo sì noi abbiamo una frazione che è la Contrada Marina che è veramente una ferita aperta nel cuore del nostro territorio ci sono attività produttive e ci sono anche privati che hanno visto demoliti i loro immobili ma purtroppo oltre il danno anche la beffa hanno visto demoliti i loro immobili non perché gli immobili erano in abuso ma immobili profumatamente sudati con il frutto del proprio lavoro e quindi costruiti su un titolo edilizio quindi una doppia mancanza e un doppio dolore che comunque ha delle responsabilità perché se è vero che all'epoca delle costruzioni determinati tipi di richieste soprattutto per quello che era proprio lo studio idrogeologico non erano necessarie è altrettanto vero che però in questi anni è mancato l'approfondimento di quello che comunque è un terreno argilloso quella Contrada Marina una collina che col tempo continua a camminare e su cui bisognerà intervenire un primo intervento è stato anche diciamo deciso ovviamente con un ente superiore che è la regione Abruzzo ma è un intervento per calmare la situazione non per risolverla definitivamente e poi qui insomma una riflessione politica fatta il nostro è un comune che da 43 anni viene governato dalla stessa matrice politica il centro-sinistra quindi se ci sono pregi e ci sono lodi da fare al centro-sinistra vanno fatti però se ci sono demeriti e ci sono pecche che purtroppo si ravvisano facendo un giro a piedi nel nostro territorio e osservando cosa abbiamo incontro la responsabilità è una responsabilità politica che porta il colore del centro-sinistra ovviamente un altro argomento molto importante che riguarda il comune di Mociano è la questione della discarica certo che sì la discarica di Santa Maria Assunta è anche questa un'altra ferita che sta nel territorio del nostro comune è una discarica latente chiusa a seguito di un'ordinanza e sono circa 17 anni che però non è ancora oggetto di bonifica tra l'altro un mese fa l'Unione Europea ha attenzionato con una sanzione la discarica di Santa Maria Assunta proprio perché è una delle 23 discariche più pericolose presenti su tutto il territorio nazionale è vero anche che c'è stato uno stanziamento l'anno scorso di 6 milioni di euro da parte della regione Abruzzo per cui il sindaco attuale e il sindaco entrante verrà nominato come commissario ad acta per il ripristino della bonifica insomma non il ripristino la bonifica a norma di legge della struttura ma è altrettanto vero che chiunque lo farà che sia il sindaco uscente o che sia io non facciamo niente che non sia dovuto ai nostri cittadini è un atto dovuto perché purtroppo quella discarica ha tanti strascichi sul nostro territorio che ognuno nelle proprie famiglie nelle famiglie mocianesi conosce quindi quasi una bomba ecologica sicuramente non è un fiore all'occhiello di cui le amministrazioni uscenti l'amministrazione uscente può vantarsi questo è un comune a due passi dal mare quindi dal punto di vista turistico è un qualcosa su cui dovete e bisogna lavorare moltissimo da un punto di vista turistico il comune di Mosciano Sant'Angelo non ha nulla da invidiare a nessuno le nostre campagne sono le campagne di una Toscana abruzzese se così la possiamo definire certo è che per investire bisogna avere una particolare sensibilità al recupero del nostro patrimonio artistico del nostro patrimonio culturale al fatto che le strade devono essere percorribili al fatto che l'ambiente deve essere tutelato e quindi la discarica di Santa Maria Assunta deve avere una risposta definitiva al fatto che un comune che si fregia di essere il comune della famiglia degli Acquaviva deve avere degli interventi diretti che sono la manutenzione della torre il ripristino di una biblioteca comunale il ripristino del Cineteatro Acquaviva il ripristino del Belvedere tutti i monumenti importantissimi che possono portare a fare di Mosciano un paese ripeto a dimensione di Toscana perché non abbiamo nulla da invidiare alle realtà anche marchigiane che sono qui vicine però bisogna investire bisogna crederci e sicuramente nel programma di Obiettivo Mosciano la cultura il recupero del patrimonio storico il recupero del patrimonio monumentale sarà uno dei punti cardine per cui la nuova amministrazione andrà a insediarsi e il lavoro ai giovani? Anche qui anche sul lavoro Mosciano viene da una realtà che negli anni 70-80 si è caratterizzata per una forte vocazione industriale artigianale e anche manufatturiera purtroppo la nostra zona industriale attualmente o artigianale è caratterizzata da tanti capannoni sfitti dove si legge vendesi o affittasi la congiuntura economica sicuramente non positiva ha avuto i suoi riverberi negativi sul nostro territorio però a un certo punto si può solo risalire quindi l'impegno dell'amministrazione che dal 27 maggio ci auguriamo tutti si augurano sarà diversa sarà quella di intercettare tutte le attività imprenditoriali che vorranno investire nel nostro territorio non fare gli errori come sono stati fatti anche in un passato molto recente di farci scappare le opportunità di insediamento di lavoro perché il lavoro significa non solamente la possibilità della costruzione di una famiglia significa tutto l'indotto che c'è e che comunque il lavoro comporta nel nostro programma c'è per esempio la necessità di istituire l'albo delle imprese artigiane moscianesi che devono essere sicuramente tra virgolette preferite nella legalità nei rapporti nei contratti d'appalto proprio perché c'è un ritorno di chi comunque paga le tasse sul territorio anche a livello lavorativo c'è per esempio la necessità di creare un museo dell'artigianato facendo anche da raccordo tra i vecchi ebanisti che ancora ci sono che hanno portato una grande tradizione che è quella appunto del mobile a fare di Mosciano la Cantù d'Abruzzo perché ci sia la possibilità di insegnare ai giovani una nuova dimensione lavorativa ma anche una nuova dimensione occupazionale oltre al fatto che per noi lavoro per i giovani significa anche investire sulle scuole l'università di Teramo che aveva una sua sede distaccata nella zona di Mosciano stazione è andata via nel silenzio totale dell'amministrazione investire sulle scuole significa investire sulla sicurezza dei nostri ragazzi che vanno a scuola ma significa anche fare dei percorsi di approfondimento tra l'ente istituzione e il raccordo scolastico come per esempio potrebbe essere nel nostro programma C'è un percorso di educazione alla legalità insomma creare una formazione del patrimonio del capitale umano di cui Mosciano può solo vantarsi siamo arrivati alla fine di questa lunga intervista qual è il messaggio che vuole dare ai cittadini di Mosciano? il messaggio che mi sento di dare ai cittadini di Mosciano è questo spesso quando si passa diciamo da un'amministrazione all'altra sembra quasi scontato parlare di prosecuzione di un'amministrazione che purtroppo ad oggi non ha soddisfatto le maggiori prerogative dei cittadini rispetto al cambiamento per noi il cambiamento non è una parola vacua per noi il cambiamento è una parola concreta il 2019 è l'anno della svolta sicuramente ci sarà un momento di cambiamento collettivo ed etico nell'amministrazione della cosa pubblica siamo tutti cittadini liberi quelli di Mosciano della lista obiettivo Mosciano abbiamo voglia di lavorare abbiamo voglia di spenderci non perché la nostra è una grande famiglia e fino a questo momento abbiamo avuto un padre di famiglia che si è alternato insomma sotto gli stessi colori politici io credo molto nelle donne sono una donna e questa volta una madre di famiglia veramente potrà dare quello di cui Mosciano ha bisogno se dovesse scegliere lei come nuovo sindaco qual è la prima cosa che lei farebbe? la prima cosa che io farei sicuramente sedermi studiare le carte insieme ai miei validi collaboratori in primis ripeto la collega Baldini ma tutti coloro che fanno parte della mia squadra e cominciare a reinvestire l'attività amministrativa sul capitale umano sui Moscianesi grazie mille la nostra ospite la candidata sindaco Maria Cristina Cianella della lista civica Obiettivo Mociano e adesso ultimo spazio all'ultimo ospite purtroppo il terzo candidato che doveva essere qui in trasmissione con noi ha avuto un impegno non ha potuto partecipare a questo appuntamento la lista è di azione politica il candidato è Teseo Potenza quindi gli facciamo anche il nostro in bocca al lupo però il tempo a nostra disposizione per il comune di Mociano è terminato e passiamo subito al prossimo comune eccoci ritrovati amici telespettatori per questo ultimo spazio di approfondimento siamo nel comune costiero di Pineto dove sono ben quattro i candidati alla carica di primo cittadino c'è il sindaco uscente Robert Verrocchio appoggiato dalla lista Scegliamo Pineto poi c'è Luca di Pietrantonio appoggiato dalla lista Prima Pineto poi Filippo da Fiume del Movimento 5 Stelle e infine Paolo Passamonti con sicuramente Pineto ma non perdiamo tempo e andiamo subito ad intervistarli amici telespettatori adesso è arrivato il momento del primo candidato alla carica di primo cittadino del comune Pineto siamo in compagnia con Paolo Passamonti con la lista sicuramente Pineto Passamonti come mai la scelta di entrare nel mondo della politica? Innanzitutto grazie e buongiorno a tutti la scelta devo dire una cosa negli ultimi anni qualche volta mi hanno chiesto se volessi scendere in politica ma essendo emegnato lavorando nel lavoro che amavo che ho sempre amato il mio mestiere fare il poliziotto non ci ho mai pensato nel momento in cui sono andato in pensione a circa un anno fa mi hanno chiesto di scendere in campo e devo dire che ci ho riflettuto parecchio perché avevo raggiunto una situazione oramai di stress molto limitato rispetto a prima diciamo che ero tranquillo e volevo che questa tranquillità continuasse poi un po' di insistenza un po' di amici molto vicini a me fino a me mi hanno convinto e ho deciso di partecipare a questa competizione elettorale Qual è l'ottica secondo lei che il comune di Pineto deve avere per il futuro? Noi dobbiamo sicuramente rilanciare il turismo che è una delle cose principali che sta mancando negli ultimi anni io quando negli anni 80 vivevo in maniera continuativa qui nel mio paese anche se la mia famiglia è rimasta sempre qui a Pineto e mi ricordo che per poter scendere venire in centro innanzitutto non era quasi possibile trovare un parcheggio e poi c'era tanta di quella gente che era anche difficile camminare e farsela passeggiata tra il quartiere Corfu il centro e la villa è desolante invece vedere la situazione degli ultimi anni dove i parcheggi si trovano tranquillamente quindi uno non ha un problema e la sera di gente ce n'è poca in giro e questo si ripercuote pure sulle attività commerciali sui bar sui ristoranti e quant'altro per cui ritengo che bisogna rilanciare per il benessere per lo sviluppo sicuramente il turismo più tutta un'altra serie di attività si allargono alla sicurezza che è uno delle altre punti di forza del mio programma perché dove c'è più sicurezza c'è più sviluppo e quindi penso che sia tutto collegato il turismo è un argomento molto importante per la Costa Terramana bisogna anche lavorare in sinergia con gli altri comuni per far sì che si riesca a creare un pacchetto unico ma io ritengo che c'è già una grande differenza tra Pineto Silvio e Roseto noi purtroppo io dico purtroppo perché abbiamo perso delle grosse strutture ricettive grossi alberghi hanno modificato il loro asset per cui abbiamo perso di posti letto posti letto rispetto ai 2800 e ai 2.900 dei due comuni Pineto ne ha soltanto 1.600 insomma è una cosa che ci penalizza sicuramente ci penalizza perché non c'è ricambio settimanale ma non ci sono quelle 2.000 persone in più che potrebbero fare la differenza quali potrebbero essere le strategie per fare quello che lei sta dicendo la strategia io ho un esperto nel mio staff uno dei tanti candidati il quale gestisce una grossa attività ricettiva un grande albergo a 4 stelle superiore per cui conosce tutte le nuove come si dice strategie economiche relative al settore e già l'altro giorno nell'incontro che abbiamo fatto con i vari albergatori con la situazione albergatori ha portato delle novità nel creare un staff unico un ufficio che si occupi solo di questo che si occupi in maniera costante della ricerca di turisti da portare sul territorio ma non tanto facendo riferimento alle vecchie modalità che sono la fiera all'estero che si potrebbe continuare a fare per l'amore di Dio ma lui lavora molto sul web facendo dei video ogni tre mesi mette video in rete delle strutture che ha della recettività e di quello che c'è ed ha avuto successo per cui io ritengo che si possa sicuramente istituire un ufficio collegato con l'associazione albergatori ma anche con gli altri commercianti e fare una campagna mediatica europea che ci possa permettere di avere turisti non soltanto nei due mesi estivi ma che passano come parte dappertutto dal primo di aprile al 30 settembre a metà ottobre lei ha parlato di sicurezza un argomento che lei ha detto è molto importante all'interno del suo programma i comuni della costa purtroppo hanno il problema che essendo avendo le stazioni avendo questi mezzi di trasporto e soprattutto essere collegati con le grandi città soffrono il problema della criminalità il problema di sicurezza è molto sentito a Pineto perché abbiamo purtroppo diversi furti furti che rispetto a un calcolo popolazione residente è sentito non vi nascondo che a casa mia quando io ero a Pescara sono venuti due volte a rubare per cui si sente si sente come il comune deve porre in atto tutte quelle attività che possono effettivamente far sì che la sicurezza sia più effettiva ed efficace e io nella mia strategia nel mio programma non ci sono alcuni asset importanti innanzitutto dobbiamo posizionare facendo riferimento a fondi che sono poi del ministero dell'interno una serie di telecamere sul territorio su tutto il territorio comunale quindi fare una videosorveglianza prima studiata a tavolino poi posizionata sul territorio telecamere che però devono essere guardate non possono essere come è accaduto in un periodo in cui ero a Pescara il sindaco mi chiamò e mi disse mettiamo 50 telecamere gli disse guardi prima di metti 50 telecamere innanzitutto ti mando io un tecnico affinché vengono posizionate dove servono e poi alla domanda dice ma chi le vede queste telecamere eh ma non le vede nessuno e allora che le metti a fare le telecamere le telecamere se vanno messe devono essere visionate nell'immediatezza e non a remoto dopo che è successo il fatto noi dobbiamo prevenire i fatti non che ne dobbiamo andare a scoprire che è stato l'autore quindi oltre al posizionamento della videosorveglianza vorrei istituire una sala operativa che funzioni sulle 24 ore comprendola sia con personale dei vigili della polizia locale nelle ore di urna nelle ore notturno facendo riferimento alla polizia sussidiare che sono le guardie particolari giurate se poi questo asset si può fare in simbiosi con i comuni vicini è ancora meglio perché questo ci permetterà di consorziare i vigili urbani di tutte e tre io faccio riferimento a Silvia Datri che nell'ambito della mobilità distano in alcune ore soprattutto di notte ci vogliono 5 minuti per andare dalla parte all'altra quindi dove si potrà operare con delle pattuglie autonome facendo anche riferimento alle polizie nazionali carabinieri e polizia con cui dovremmo sicuramente stringere e fare protocolli per far sì che questa collaborazione sia efficace ed effettiva purtroppo uno dei problemi che riguarda il Comune di Pioneto è quello del problema idrogeologico negli anni ne ha viste veramente di tutti i colori problemi che si sta cercando di risolvere ma ancora purtroppo sono in essere allora il problema idrogeologico rientra anche nel nostro programma bisogna prendere delle persone competenti che sappiano il lavoro loro e non prendere con tutto il rispetto per ognuno ma dobbiamo prendere gente che se ne occupa veramente fare degli studi e cercare le soluzioni che è l'unico modo per risolvere il problema altrimenti non ne usciamo il problema delle alluvioni poi non è che riguarda soltanto Pinetocento ma riguarda Scerne ci sono tanti punti riguarda la zona sud verso Pescara della Foggetta che se viene l'alluvione alcuni residenti non possono attraversare la strada perché hanno un ponticello di legno che non gli permette in caso di piena di uscire da casa loro quindi dobbiamo lavorare su tutto il territorio e riqualificare tutto ciò che riguarda la sicurezza idrogeologica se lei dovesse essere il nuovo sindaco del comune di Pineto qual è la prima cosa che farebbe? ma innanzitutto sicuramente la sicurezza perché alla base di tutto c'è un sistema sicuro collegato alla sicurezza poi venneranno tutte le altre cose l'Europa secondo lei è importante? l'Europa non è importante è importantissima allora in un dibattito di poche sere fa dopo aver avuto contatto con un consulente che potrebbe fare parte del mio staff in futuro se dovessi essere eletto sindaco che è esperto proprio di di contatti con l'Europa di conosce tutti i bandi per poter attiggere i fondi europei noi abbiamo scoperto mi dispiace tantissimo che negli ultimi anni abbiamo perso come comune quasi 10 milioni di euro di finanziamenti che potevano essere utilizzati per la sistemazione delle strade per il turismo tutta una serie di attività che venivano finanziate dall'Europa purtroppo non abbiamo attinto per mancanza di progetti giovani il lavoro i giovani sono il punto di forza la nostra attenzione dobbiamo riportare le aziende nel nostro territorio e far sì che chi ha voglia imprenditoriale di ragazzi bisogna stare a fianco come bisogna stare a fianco a tutti i commercianti perché se si fanno passeggiate vedranno molte persiane saranno cineschi e chiuse questo perché i costi degli affitti poca gente in giro non ce la fanno ad andare avanti quindi dobbiamo sicuramente abbassare le tasse e favorire il rilancio dell'economia giornaliera degli esercenti che sono sul territorio questo deve essere collegato ad una sistemazione urbana perché se tu riesci anche a far sì che chi viene viene volentieri perché l'accoglienza del paese è diversa da quello che è oggi per cui dobbiamo sicuramente riqualificare tutto il centro storico ma anche i centri delle altre frazioni che sono importanti noi abbiamo il Borgo Mutignano che dobbiamo rilanciare sicuramente perché è un punto di forza del comune quindi le frazioni possono essere anche un po' un importante volano per rilanciare dal punto di vista anche turistico l'intero comune ma sicuramente sì perché noi abbiamo il Borgo di Mutignano che poi sarebbe il Borgo della nascita della mia famiglia i miei nonni sono sotto il rete del cimitero di Mutignano che è uguale a Città Sant'Angelo uguale a Montepagano uguale a tanti altri borghi bellissimi è già bella di per sé ma ci dobbiamo lavorare e rilanciare come punto anche serale d'incontro al di là del fatto che io vorrei fare un albergo diffuso a Mutignano in modo tale che si riesca a coinvolgere nell'attività imprenditoriale più famiglie possibili quali devono mettere a disposizione un bagno e una camera con un lancio di questo turistico in questo modo sicuramente si avrà la possibilità di mandare più persone a Mutignano ed è un volano poi per l'attività commerciale perché se c'è persone che ogni settimana cioè sono turisti che ogni settimana cambiano mettiamo che riusciamo a mandare su due o trecento persone a settimana questo significa che la sera escono vanno al bar vanno al ristorantino e quindi si genera quell'economia diffusa che porta benessere sul territorio vi si è considerato purtroppo il momento difficile dei vari comuni le associazioni le prologo quanto possono essere importanti? Le associazioni sono un punto di riferimento importante noi qui sul territorio ce ne sono tantissimi che stiamo contattando per collaborare insieme la collaborazione penso che sia importante per tutti non ci possono essere asset all'interno del comune che non vengono prese in considerazione dal comune stesso per cui penso che debba essere un rapporto costante ma il rapporto costante deve essere con tutti i cittadini perché la prima cosa che voglio fare è creare dei comitati di quartiere che sia nel punto di riferimento del comune loro devono avere il filo diretto con il sindaco Passamonti siamo arrivati alla fine di questa lunga intervista qual è il messaggio che vuole dare ai cittadini di Pineto? Sicuramente Pineto è un sogno quello di far sì che Pineto torni ad essere quello che era io non dico soltanto c'è la possibilità di cambiare non avete avuto per tanti anni l'amministrazione attuale se siete contenti o non lo siete lo sapete voi io vi dico abbiate la forza di cambiare auguri a Pineto grazie mille a Paolo Passamonti con la lista sicuramente Pineto adesso diamo spazio al nostro secondo ospite siamo in compagnia del nostro secondo candidato siamo in compagnia di Filippo da Fiume del Movimento 5 Stelle da Fiume parte questa avventura il 26 le elezioni amministrative come mai la sua scelta di candidarsi? La mia scelta è stata una scelta fatta soprattutto con il cuore nel senso che io non mi sono mai occupato di politica in maniera diretta sebbene abbia una passione innata per la politica ma amo la mia città io sono dirigente d'azienda da 20 anni e attraverso la frequentazione del gruppo di attivisti del Movimento 5 Stelle di Pineto ho visto persone assolutamente disinteressate da un punto di vista personale quindi interessate solamente al bene della città al bene comune e ho raccolto il loro invito a mettere a disposizione la mia persona le mie competenze soprattutto in ambito di controllo di gestione amministrazione e finanze di cui mi occupo da 20 anni e calarle nella realtà cittadina per cercare di migliorare la qualità della vita dei cittadini di Pineto quindi è stata una scelta soprattutto come dire per mettere a disposizione della città la mia persona e le mie competenze spero che i cittadini ci daranno fiducia non abbiamo interessi lobby che ci spingono se non quello appunto di fare gli interessi dei pinetesi cosa bisogna cambiare secondo lei nella città di Pineto i problemi della città di Pineto sono enormi è vero che noi abbiamo una città stupenda perché diciamo sia per conformazione paesaggistica naturale ma anche come lungimiranza che i nostri avi hanno avuto nel gestire la città di Pineto fin dalle sue fondamenta con il commendatore Figliani che pensò negli anni 20 di impiantare la pineta storica da lì si è costruita un po' tutta quella che è stata l'asse diciamo territoriale di Pineto così come nel post dopo guerra ci fu appunto la decisione anche qui lungimirante di far passare la variante la statale adriatica fuori dal centro cittadino così come il piano regolatore degli anni 70 che ha dato dei frutti stupendi per la città che è cresciuta in maniera ordinata per lo meno nella prima fase poi sono arrivati i periodi in cui la città è cresciuta in maniera un po' disordinata con le frazioni completamente sconnesse dal centro cittadino parliamo di Borgo Santa Maria del quartiere dei fiori del quartiere delle nazioni quindi i problemi di Pineto sono diversi sono molti appunto a partire dai problemi territoriali sappiamo tutti che Pineto ahimè ogni 4-5 anni subisce degli allagamenti delle inondazioni e questo diciamo sia dalla parte sud della Foggetta fino ad arrivare alla frazione importante di Cern in 20 anni 25 anni di amministrazioni uscenti nessuno è stato in grado di porre rimedio a questo stilicidio e addirittura in qualche caso si è dovuto interrompere la stagione turistica perché appunto la manutenzione del territorio non è stata fatta assolutamente abbiamo sicuramente altri problemi che riguardano il lavoro il turismo poco o nulla è stato fatto rispetto a quelle che erano i fasti del passato io ero piccolino mi ricordo gli anni 80 dove Pineto pullulava di turisti e si faceva fatica addirittura a camminare per il viale d'annunzio e quindi i problemi sono tanti noi cercheremo di dare delle soluzioni concrete il nostro programma è stato stilato in mesi e mesi di lavoro con la compartecipazione dei cittadini noi siamo un gruppo di circa 40 45 attivisti che si sono mossi sul territorio chiedendo alle persone all'associazione di categoria ai portatori legittimi di interessi quali fossero i problemi della città e abbiamo stilato un programma dettagliato qualcuno ci ha rimproverato che 24 pagine di programma sono un po' tante però io ritengo che per cercare di migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini siano dei punti assolutamente fattibili che secondo noi nel quinquennio della consigliatura potranno sicuramente migliorare quella che è la qualità di vita dei cittadini e del territorio di Pineto quindi poi magari entreremo più nel dettaglio dei singoli argomenti immagino proprio uno di questi primi argomenti è la questione turismo che lei ha iniziato a toccare quali devono essere gli obiettivi che il comune di Pineto si deve avere intanto mi riallaccio perché noi abbiamo una visione unitaria della città che quindi non stacchiamo il turismo da altre tematiche come la tutela del territorio ad esempio abbiamo il grandissimo problema dell'erosione della costa su cui pochissimo se non addirittura interventi che poi non hanno avuto il beneficio che ci si aspettava come il ripascimento morbido nella costa nord di fronte della Pineta Catucci i problemi dell'erosione della costa sono problemi ormai più che ventennali e in questi vent'anni le amministrazioni che si sono succedute hanno semplicemente fatto il ripascimento morbido spendendo tra l'altro anche svariati milioni di euro di soldi pubblici e il problema è rimasto lì quindi sicuramente la prima cosa da fare è mettere mano a questo diciamo gravissimo problema che Tarpa Leali e molti operatori turistici della zona ma penso che sia un problema di cui Pineto bisogna che si faccia carico a 360 gradi si parla molto diciamo della possibilità di impiantare scogliere o simili allora io non sono contrario ideologicamente però ritengo che per evitare di nuovo di utilizzare dei sistemi che poi ex post si rivelano non adeguati io direi che bisogna alzare un po' l'asticella e coinvolgere gli enti di ricerca sovraordinati al comune tra l'altro questa è competenza regionale quindi secondo me bisogna andare oltre la regione e capire come fare un monitoraggio serio degli studi adeguati affinché si possa poi prendere delle decisioni che siano definitive e che risolvano il problema in maniera definitiva quindi questo è il contesto poi da un punto di vista pratico di quello che si vorrà fare per far sì che il turismo torni a essere il volano della città noi non credo che abbiamo bisogno di grandissimi investimenti in nuove strutture quando piuttosto di gestire l'esistente e valorizzare quello che abbiamo noi abbiamo delle colline stupende spesso ci si ferma soltanto a guardare il mare la spiaggia ma noi non abbiamo sfruttato in modo positivo quelle che sono le nostre bellezze a livello di paeseggistica rurale abbiamo tante possibilità di ripristinare strade bianche percorsi ciclopedonali in modo da far sorgere attorno delle strutture ricettive a basso impatto utilizzando quello che c'è e non trascurando quello che è il nostro borgo antico perché se ne fa menzione ormai da 30 anni io sento il rilancio del borgo antico ma nessuno è stato capace di rilanciarlo veramente c'è un continuo spopolamento del borgo e quindi noi dobbiamo per quanto riguarda la crescita del borgo antico intanto utilizzare gli strumenti dell'urbanistica e quindi cercare di agevolare e incentivare il ripopolamento della frazione e poi intervenire con tutta una serie di servizi sicuramente parlando con la provincia per quanto riguarda la viabilità stradale che è un punto essenziale per poter raggiungere in comodità il borgo che è a circa 6 chilometri 6 chilometri e mezzo dal centro cittadino e poi incentivare attraverso incentivi dati agli operatori attraverso una politica urbanistica quello che è la vocazione turistica di Mudignano che ha delle chiese rinascimentali ha delle peculiarità stupende ha delle associazioni che lavorano sul territorio in maniera veramente incommiabile c'è soltanto da fare applausi alle persone che si spendono sul territorio in maniera disinteressata quindi incentivare un turismo diffuso un turismo a basso impatto ambientale queste sono le nostre linee guida per quanto riguarda il turismo non ultimo che sembrerebbe una cosa non prettamente collegata ma spesso si parla di allungamento della stagione anche questo è un mantra che ricorre ormai da svariati anni ma l'allungamento della stagione è possibile nel momento in cui si danno dei servizi ai turisti servizi che possono essere ad esempio quello di coinvolgere le associazioni tantissime associazioni che sono presenti sul territorio attraverso un coordinamento di queste associazioni io dedicherò un consigliere proprio a far seguire le associazioni a metterle in rete farle comunicare l'una con l'altra stanziare più fondi per quello che riguarda poi le iniziative che vengono intraprese nel territorio e cercare appunto di allungare queste manifestazioni e non concentrarle soltanto nel mese estivo in quei 15 giorni di agosto dove sicuramente fermano le attività tra l'altro io faccio parte di un'associazione importante a Pineto che è quella di Risvegli Sonori che promuove ormai da 12 anni il music festival Pinettini e Moderni che ormai è conosciuto in tutta Abruzzo e anche fuori regione e capisco quali sono le difficoltà delle associazioni e quale impegno mettono in modo gratuito per far crescere il paese noi pensiamo che è un coordinamento a partire proprio dal finire della stagione in modo da prepararsi per tempo in modo che questi eventi siano diluiti il più possibile nel corso della stagione turistica non ultimo direi che è importantissimo cercare di ripristinare appunto come dicevo prima e collegare le varie frazioni attraverso percorsi ciclopedonali che invoglino il turista a conoscere un po' tutto il territorio di Pineto a far conoscere i monumenti che ci sono o anche diciamo case private storiche attraverso accordi con il Prieto per renderlo fruibile nel corso dell'anno insomma ecco le idee poi sono tante noi invito i cittadini a leggere il programma anche specificatamente sul turismo dove ci sono diversi diversi punti sicuramente l'innovazione tecnologica è fondamentale da questo punto di vista la promozione dei bed and breakfast delle app particolari ad esempio la città di Siena è un'app stupenda che guida il turista nel suo arrivo fino alla sua partenza da parte diciamo appunto del turista che arriva a visitare Siena potremmo fare tranquillamente una cosa similare per Pineto sono tutte cose che ad esempio la vecchia amministrazione aveva nel programma del 2014 invito i cittadini farò un post sulla mia pagina facebook per ricordare i cittadini qual era il programma della vecchia amministrazione l'amministrazione uscente di quali sono state le proposte all'epoca fatte nel 2014 e quelle realizzate siamo arrivati alla fine quasi alla fine di questa lunga intervista qual è il messaggio che lei vuole dare ai cittadini di Pineto? ma allora io direi di dare un messaggio semplice e diretto l'alternativa all'attuale amministrazione è il sottoscritto e il gruppo del Movimento 5 Stelle Pineto sicuramente la destra essendosi diciamo divisa in due liste avrà poche possibilità di arrivare alla vittoria della cittadina noi saremo sicuramente l'alternativa reale all'amministrazione uscente che tra l'altro avremo la possibilità di amministrare la città con un gruppo unito noi siamo una sola lista siamo un gruppo di cittadini nessuno di noi tranne il consigliere uscente Santino Ferretti ha avuto esperienze nell'amministrazione comunale e quindi pensiamo di essere l'unica e seria alternativa mentre l'amministrazione uscente ha al suo interno diverse liste credo se no 6-7 liste tra partiti e associazioni diciamo locali e farà molta fatica a gestire la città in maniera come dire in modo coeso e con con la possibilità di avere una gestione della città coerente con quelli che sono gli obiettivi dell'amministrazione uscente insomma e quindi rinnovo l'appello ai cittadini dateci fiducia siamo per il cambiamento siate per il cambiamento e siate liberi nella scelta nel segreto delle urne grazie mille al candidato Filippo Da Fiume del Movimento 5 Stelle adesso andiamo col prossimo ospite eccoci ritrovati siamo in compagnia del nostro terzo candidato alla carica di primo cittadino del Comune di Pineto Luca Di Pietrantonio con la lista Prima Pineto Di Pietrantonio come mai ha deciso di candidarsi? sono consigliere comunale da circa 10 anni ed intorno a me si è creato un grandissimo consenso da parte di cittadini di movimenti civici di associazioni che hanno voluto che hanno visto in me una persona che ha sempre lottato per il cittadino che è sempre stata la stessa parte una persona coerente anche quando il centrodestra era al 10% sono stato sempre da quella parte e non ho mai tentennato quindi molti cittadini vedono in me una persona battagliera una persona che è molto coerente è portatrice di sani principi e quindi ho deciso di accettare questa sfida perché molti cittadini me lo hanno chiesto Pineto è un comune sulla costa che vive principalmente il turismo il turismo deve essere il volano per la crescita di questo comune assolutamente sì purtroppo in questi ultimi anni abbiamo visto una decisa decrescita del turismo a Pineto purtroppo molte attività commerciali hanno chiuso sotto la Pineta non c'è più quel movimento che prima contraddistingueva un pochino la vita estiva pinetese ma quello che secondo me ho notato proprio una mancanza di strategie da parte dell'amministrazione un'amministrazione che ormai è qui da circa 25 anni che è amministrato sempre con le medesime persone e che non ha dato quell'impulso quella spinta propulsiva di cui Pineto ha assolutamente bisogno secondo me il segreto è nell'ammodernamento delle strutture nell'ammodernamento e riqualificazione delle strutture esistenti e nel dare la possibilità agli albergatori o comunque agli imprenditori di costruire nuove strutture la sua idea del comune pinetese quale deve essere? allora la mia idea di comune è un comune funzionale un comune funzionante un comune sicuro infatti ho sempre battagliato sia in consiglio comunale che fuori per gli impianti di videosorveglianza per una maggiore attenzione da parte del comune in particolar modo una maggiore collaborazione con le forze dell'ordine perché purtroppo per l'amor di Dio Pineto non è equiparabile a paesi della Campania ma anche qui stiamo notando una crescita della micro criminalità furti in appartamenti aggressioni questa cosa a noi non piace io sono tendenzialmente per l'ordine e per la disciplina quindi è necessario che i cittadini si sentano sicuri al pari della sicurezza del cittadino nel nostro programma abbiamo inserito anche la sicurezza del territorio anche a Pineto c'è bisogno di rimettere a posto il territorio c'è bisogno di risolvere l'annoso problema del rischio idrogeologico e secondo me questo con altri problemi tipo l'erosione della costa necessitano della cosiddetta quello che io chiamo la filiera amministrativa virtuosa che prevede il comune regione governo centrale e Europa adesso ci saranno le elezioni europee e sono convinto che la Lega avrà un ottimo risultato perché per questi interventi oltre a volerci strategia e coraggio ci vogliono anche fondi e avere una regione amica sappiamo che la regione Abruzzo e il governo centrale e sicuramente anche l'Europa saranno attrazione Lega sicuramente ci darà la possibilità di poter beneficiare di questi rapporti e quindi di poter accedere a dei fondi importanti che ci facciano risolvere questi problemi Hai parlato del problema idrogeologico del comune purtroppo Pineto negli anni ne ha veramente subiti tutti i colori quali devono essere gli interventi che secondo lei possono un po' far diminuire il problema che comunque abbiamo visto negli anni Allora sicuramente quello che è mancato a Pineto è l'attività di manutenzione attività di manutenzione ordinaria che noi abbiamo sempre cercato di diciamo abbiamo sempre bungolato l'amministrazione in questo senso ma ci siamo trovati sistematicamente con i letti dei torrenti occupati da canne da vegetazione foltissima che ovviamente che rende molto difficoltoso il deflusso delle acque sono state fatte delle costruzioni in alcuni contesti anche selvagge e quindi i canali di scolo che i nostri avi avevano previsto in maniera molto diligente sono stati tombati e secondo me ci vogliono interventi anche abbiamo il torrente Foggetta il torrente Calvano che necessitano di interventi importanti di messa in sicurezza purtroppo c'è stata una cementificazione delle zone della Foce insomma del Calvano specialmente e dei corsi addirittura grazie al PD ci sono state costruite anche scuole a fianco lì a Borgo Santa Maria a fianco diciamo degli argini di questo torrente il che rende tutto molto pericoloso è ovvio che non possiamo abbattere le costruzioni ma dobbiamo necessariamente metterle in sicurezza so che ci sono dei progetti che prevedono vasche di contenimento vasche di espansione purtroppo questa amministrazione si è limitata sempre e soltanto negli anni non solo in questi ultimi cinque anni ma anche nelle amministrazioni precedenti quelle di Monticelli a far fare degli studi a fare dei progetti a spendere denaro salvo poi non fare nulla di concreto noi siamo per e non solo come claim siamo quelli che passeranno dalle parole ai fatti e noi siamo quelli che interverranno sul territorio in maniera decisa in maniera determinata e risolveranno questo problema sicuramente questo è uno degli impegni che mi prendo con i cittadini lavorerò sin dal primo giorno per risolvere questo e tutti gli altri problemi che ci sono a Pineto anche la questione dell'erosione è un problema molto serio però lì bisogna anche affrontarlo con gli altri comuni della costa assolutamente sì è un problema che riguarda diciamo tutta la costa terramana tutta la costa bursese Pineto è uno dei comuni più colpiti anche in questo senso anche su questo frangente l'amministrazione comunale ha latitato perché ha spesso preso in giro e illuso i cittadini di fare questi interventi ci sono operatori turistici che si ritrovano ormai senza spiaggia il mare è arrivato sotto le case abbiamo speso milioni e milioni di euro per ripascimento morbido ripascimento morbido che non sta dando alcun tipo di risultato perché purtroppo alla prima mareggiata tutta la sabbia che è stata apposta è stata sistemata sulla spiaggia viene sistematicamente portata a mare e anche su questo è venuto il momento di fare sì progetti ma poi di mettere in atto questi progetti dare esecuzione a questi progetti e fare degli interventi che a mio modo di vedere devono essere definitivi anche perché come vi suol dire con i chiari di luna che ci sono adesso non è più possibile spendere tutti questi milioni di euro per ripascimenti che poi si rivelano assolutamente inutili quindi è necessario intervenire in maniera decisa e definitiva per questi interventi quanto è importante anche l'Europa? per questi interventi è importantissima la regione ed è importantissima l'Europa come dicevo poc'anzi per il discorso del rischio eterogeologico anche per l'erosione costiera è necessario diciamo accedere a fondi perché sono convinto che serviranno delle risorse importanti e servirà avere un'amministrazione autorevole cosa che a Pineto è sempre mancata che sia in grado di mettersi a tavolino con gli altri comuni e far capire con Roseto Silvi ma anche con gli altri comuni vicinori perché è un problema che attanaglia tutte le amministrazioni comunali e tutti i comuni costieri e quindi va risolta insieme alla regione e insieme se è necessario al governo centrale e a tutti i sindaci e gli amministratori della costa anche se lei prima ha accennato l'argomento giovani e lavoro allora per quanto ero del discorso di giovani io sto come diciamo in questo momento non solo in questo momento elettorale perché io sono sempre stato a differenza di altri che adesso si impegnano politicamente e fanno gli incontri solo perché in campagna elettorale io ho sempre incontrato i cittadini sono sempre stato accanto ai cittadini e spesso mi è capitato di incontrare i giovani giovani che lamentano la mancanza di lavoro giovani che lamentano la mancata considerazione da parte dell'amministrazione tant'è che molti ragazzi d'estate molti ragazzi giovani sono costretti per quanto riguarda il discorso di divertimento a spostarsi anche pericolosamente in comuni vicini e sono costretti tante volte ad emigrare anche perché non c'è lavoro addirittura a Pineto abbiamo abbiamo avuto la costituzione è un paese tranquillo Pineto facciamo delle manifestazioni ma non può dirsi un comune rumoroso addirittura c'è stata la costituzione di un comitato antirumore che vorrebbe praticamente diciamo far tacere silenziare tutti i nostri giovani silenziare tutti quanti i locali che vogliono fare musica è assolutamente mi dispiace per chi fa parte di questo comitato ma non troverà le loro istanze purtroppo non possono ovviamente sempre nel rispetto alla legge non vogliamo creare diciamo non voglio dare una cattiva impressione sempre nel rispetto alla legge ma i giovani devono divertirsi i giovani devono avere la possibilità di manifestare anche divertendosi le loro diciamo le loro volontà insomma tutto quello che vogliono fare non si può silenziare i ragazzi così quindi io sarò sicuramente dalla loro parte e laddove ci dovesse essere un diciamo un braccio di ferro come alcune volte è successo tra chi vuole silenziare Pineto e chi invece e i ragazzi che invece vogliono divertirsi io starò sempre dalla parte dei ragazzi su questo non ci sarà dubbio purtroppo i comuni a livello nazionale vivono un momento di grave crisi economica quindi soprattutto nell'organizzazione degli eventi quanto sono importanti l'associazione e le proloco le associazioni e le proloco sono importantissime a Pineto abbiamo grazie a Dio delle associazioni che si spendono tantissimo abbiamo delle proloco ad esempio anche nelle frazioni che organizzano degli eventi molto importanti solo che l'unica cosa che a me è molto indigesta qui a Pineto e ho sempre manifestato e ho sempre combattuto è che a Pineto le associazioni non sono considerate per il valore reale che hanno dal punto di vista dell'intrattenimento dal punto di vista della socializzazione e dal punto di vista culturale perché le associazioni io sono stato anche presidente di un'associazione per circa 15 anni e so l'importanza che hanno da tutti diciamo da tutti questi punti di vista solo che a Pineto molto spesso le associazioni sono considerate dei meri bacini di voti sono considerate soltanto un insieme di persone da poter spremere nel momento elettorale per poter accavare il voto secondo me diciamo questo ha creato anche molto malcontento tra i cittadini e tra le associazioni perché si sono create associazioni serie A e associazioni serie B e cioè le associazioni amiche dell'amministrazione che accedono in maniera molto semplice a fondi a contributi e anche a diciamo agevolazioni e associazioni che invece non sono amiche di questa amministrazione che invece non ottengono né contributi né fondi né sedi sociali e neanche agevolazioni e questo a me diciamo risulta molto indigesto e io infatti garantirò ai cittadini non solo per quanto riguarda il discorso associativo ma proprio per quanto riguarda il discorso generale che non ci saranno né cittadini serie A né cittadini serie B saranno tutti cittadini serie A così come ci saranno tutte associazioni di serie A e questa è un'altra garanzia che do Siamo arrivati quasi alla fine di questa lunga intervista qual è il messaggio che vuole dare ai cittadini di Pineto? Allora il messaggio che voglio dare è che noi siamo l'unica lista composta diciamo da persone diciamo è un misto tra persone di esperienza perché ci sono anche persone che hanno già amministrato e persone giovani siamo sicuramente una lista che diciamo dà la garanzia del rinnovamento e del cambiamento io sono dieci anni che sono consigliere comunale e a differenza di chi mi sfida che non mi sembra abbiano grande diciamo grande esperienza politica conosco la macchina amministrativa abbiamo la possibilità di beneficiare come dicevo poc'anzi della filiera amministrativa virtuosa che vede la Lega ormai eccellere in tutti gli enti sovraordinati al Comune e quindi sono convinto che siamo noi gli unici in questa tornata elettorale a poter garantire rinnovamento competenza capacità e a dare al Comune di Pineto quel futuro che purtroppo laddove dovesse essere confermato il PD in questa tornata elettorale secondo me un futuro che Pineto non avrà grazie mille al nostro ospite Luca Di Pietrantonio candidato della lista prima Pineto adesso andiamo subito con l'ultimo ospite eccoci ritrovati siamo in compagnia del nostro ultimo ospite che è il sindaco uscente Robert Verrocchio appoggiato dalla lista Scegliamo Pineto Verrocchio bisogna è un percorso importante che è partito cinque anni fa e vuole andare avanti per concludere quello che lei ha fatto di buono sì è un percorso avviato già cinque anni fa è la ragione della ricandidatura perché credo che un candidato sindaco debba essere consentito di portare a termine i progetti lungimiranti che hanno bisogno di più di cinque anni noi in questa campagna elettorale stiamo dicendo ai cittadini non solo di porre un giudizio sul nostro operato ma anche di ascoltare quelli che sono i giudizi anche dei cittadini che non risiedono a Pineto anche del giudizio dei turisti che in questi anni hanno potuto vedere una città una Pineto che è cambiata la nostra è una lista in parte in continuità quindi con sei amministratori uscenti molti volti nuovi molti giovani e tante donne la scorsa volta mi candidai con otto uomini e otto donne questa volta ci sono nove donne in lista è una lista di centrosinistra unita e compatta che vede il partito democratico sinistra italiana MDP comunisti italiani associazionismo quindi persone del mondo del civismo e soprattutto è una lista con diversi volti giovani abbiamo diversi candidati che sono del 1990 e questo è un fatto importante perché significa che non è vero che la politica allontana anzi c'è un avvicinamento proprio alla politica soprattutto se i progetti poi sono attrattivi una campagna elettorale di contenuti soprattutto di contenuti quindi abbiamo parlato e stiamo parlando di turismo stiamo parlando di una città che in questi anni dati Enit dati regione Abruzzo che dal 2014 al 2018 ha visto un incremento costante con una permanenza media che vede oggi otto giorni di permanenza ed è la media più alta credo di tutta la costa adriatica significa che il turista sceglie Pineto perché si trova bene per due anni consecutivi è successo questo credo dopo vent'anni dal mese di aprile riaprono le strutture turistiche ovviamente questo non è un fatto naturale ma è un qualcosa che accade in seguito a un lavoro diciamo sinergico che vede dell'impulso dell'amministrazione ma soprattutto poi una sinergia tra consulta del turismo del commercio che abbiamo voluto istituire con forza e tante organizzazioni e associazioni e soprattutto sportive ecco lo sport è un settore su cui abbiamo puntato moltissimo perché crediamo che il turismo sportivo sia una leva fondamentale per il turismo abbiamo parlando di turismo iniziato diciamo cinque anni fa parlando della possibilità di arricchire il nostro territorio di un parco di riqualificare il parco filiano e di trasformarlo in un parco avventura cosa che è stato fatto recentemente abbiamo riqualificato anche un sito un sito ambientale un sito importante il vulcanello di fango che in occasione della giornata fa ha avuto oltre 1500 visitatori persone che sono venute da fuori che non conoscevano quel sito tra circa tre settimane quattro settimane aprirà un nuovo parco in questo caso è un parco galleggiante sul mare sempre con la sinergia di privati ovviamente stiamo in questi giorni proprio approntando uno studio per la modifica delle norme tecniche di attuazione per apportare una modifica al piano regolatore per consentire alle strutture turistiche di apportare a modernamenti e apportare anche ampliamenti alle proprie strutture quindi crediamo che questi siano interventi strategici ecco abbiamo maturato in questi anni avendo a che fare con tanti operatori che Pineto ha bisogno anche di una struttura che possa accogliere durante tutto l'anno i congressi importanti abbiamo delle strutture bellissime sono confortevoli rispondono anche a tante esigenze di coloro che scelgono Pineto per organizzare eventi ma non sono sufficienti i posti quindi nel nostro programma abbiamo inserito la possibilità guardando prioritariamente a recuperare perché ci sono delle strutture che possono essere recuperate a realizzare anche un palacongressi che abbia almeno mille posti abbiamo puntato molto sul sociale nel nostro programma perché il sociale è stato al centro delle nostre attenzioni noi abbiamo aperto un supermercato solidale che si chiama La Formica vista con attenzione un po' da tutta l'Abruzzo e dico anche oltre perché sono venuti anche da fuori ragione a vederla questa struttura soprattutto perché è di iniziativa comunale abbiamo voluto dare un servizio guardando e mettendo in prima linea la dignità del cittadino oggi abbiamo un supermercato in cui si accede con una card passando attraverso i nostri servizi sociali potendo fare spesa attraverso banchi di un supermercato nella totale come dire tranquillità e serenità seppur all'interno di un momento diciamo di difficoltà che quella stessa famiglia magari sta attraversando ma nella massima dignità sono ai noi oltre 115 famiglie che usufruiscono di questo servizio ma abbiamo dato un servizio importante così come abbiamo aperto un nuovo centro anziani che oggi vede oltre 250 iscritte addirittura si è creato un comitato proprio di queste ore la pubblicazione di un bando su cui abbiamo lavorato insieme alla ASL insieme diciamo ai dirigenti regionali e la regione Abruzzo per l'istituzione sul nostro territorio di un'UCCP un'unità complessa di cure primarie e credo che questo sarà un obiettivo strategico importante per il nostro territorio una struttura che dialogherà con tutti i nostri medici di base e verrà individuato al centro del nostro territorio che darà un servizio strategico dal punto di vista social soprattutto sanitario e che metterà insieme e sarà un po' il fulcro un po' la cittadella se vogliamo della sanità sul nostro territorio un bacino importante dal punto di vista dell'interesse dei pinetesi ma anche dal punto di vista dell'interesse dei turisti stessi pensando che l'indomani questa stessa struttura potrà ospitare un centro prelievi e perché no anche un CUP abbiamo pensato ovviamente anche alla difesa del territorio si sta parlando anche tanto di questo ovviamente è stato sin dall'inizio al centro delle nostre attenzioni abbiamo fatto oltre 25 interventi strategici se penso al PONNO dietro al quartiere dei Poeti dove sono stati spesi 400.000 euro per rifare un intero canale se penso alla parte nord del PONNO all'altezza di Villa Fumosa se penso ai tanti canali sistemati nel centro urbano tra le case verso il mare i canali collinari se penso anche ad interventi avuti in collaborazione con altri enti quale il ponte di Zappagosta a Borgo Santa Maria ringrazio la provincia di Teramo se penso anche agli interventi che sono in corso e che a breve diciamo verranno realizzati c'è un grande canale importantissimo che è realizzato a Scerne sappiamo anche che importanti interventi sono anche complessi a volte la burocrazia richiede del tempo ai noi che dovrebbe essere sempre accorciata ma ci sono dei tempi che dobbiamo attendere ma quello sarà un intervento strategico per la zona di Scerne per oltre 2 milioni di euro sarà un canale che darà una risposta in termini di messa in sicurezza di quel territorio di mitigazione del rischio proprio la settimana scorsa è arrivata la comunicazione invece sul versante di Mutignano dove abbiamo fatto un lavoro importantissimo nella portare una progettazione in avanzamento fino allo stato della cantierabilità per la messa in sicurezza della zona infrana la zona sud di Mutignano il versante sud abbiamo avuto un finanziamento ministeriale di quasi 2 milioni di euro ovviamente questo intervento che verrà diciamo portato avanti durante auspicabilmente il nostro mio prossimo mandato o comunque lasceremo diciamo come patrimonio del comune di Pineto abbiamo inoltre avviato anche un primo studio insieme alla provincia per una vasca di espansione che inevitabilmente servirà in futuro qui al Calvano si sta parlando anche in questi giorni di erosione della costa tantissimo noi abbiamo siamo riusciti diciamo ad assegnare al comune di Pineto un milione di euro per fare un primo intervento sul mare che riteniamo ai noi indispensabile seppur io sia convinto che non sia una competenza comunale continuo ad essere convinto che la competenza sia inevitabilmente regionale però tuttavia noi non ci siamo tirati indietro stiamo andando avanti in questi giorni stiamo portando avanti interventi in somma urgenza in seguito all'ultima mareggiata che abbiamo avuto proprio in queste ore stanno procedendo i lavori di messa in sicurezza della costa e proprio questa mattina sono state assegnate diciamo le procedure per quanto riguarda il ripascimento per affrontare la stagione estiva abbiamo investito molto in un percorso che riguarda la scuola anche circa un mese fa abbiamo approvato il progetto esecutivo e quindi in fase di appalto un nuovo polo dell'infanzia che sorgerà nei pressi di Borgo Santa Maria abbiamo portato avanti una progettualità ambiziosa che riguarda la possibilità di dotare il nostro territorio di un polo scolastico un polo scolastico che accoglierà mille persone ma soprattutto un polo scolastico così come il polo dell'infanzia di Borgo Santa Maria che sarà realizzato interamente in legno in acciaio e che risponderà a tutti quei requisiti di sicurezza in caso di sisma perché credo che sia il principale interesse oggi del genitore avere una scuola sicura per il proprio figlio e questa è una struttura che sorgerà al centro di Pineto al posto della scuola media abbiamo ragionato e riflettuto tantissimo intorno a questo progetto ed è un progetto che noi abbiamo candidato in Regione Abruzzo per un valore di 8 milioni 800 mila euro ed è stato così articolato questo progetto che è arrivato prima in questa graduatoria una programmazione triennale della Regione Abruzzo di cui siamo orgogliosi ovviamente abbiamo fatto un piano intorno a questa progettazione includendo anche la possibilità che nella zona di Scerne nasca invece un terzo piccolo polo un piccolo plesso di 300 alunni per rispondere anche alle esigenze di Scerne perché capiamo anche la complessità di immaginare che in un unico polo siano diciamo avvicinati tutti i ragazzi parlando di ragazzi abbiamo tenuto sempre al centro della nostra programmazione anche il tema dello sport che abbiamo considerato di fondamentale importanza non solo per i risvolti diciamo turistici che abbiamo avuto di cui parlavo poco fa ma dal punto di vista sociale lo sport come momento di integrazione partendo diciamo dalla riqualificazione delle nostre strutture quindi dalle collaborazioni che abbiamo avuto con le società sportive quindi con la S di Pineto per la riqualificazione del Druda la riqualificazione del centro degli Eleandri la riqualificazione con sintetico del campo di Mutignano la riqualificazione del campetto di Borgo Santa Maria abbiamo inserito nel programma un nuovo sintetico al campo sportivo di Scerne la realizzazione di un campo di calcetto al quartiere dei Poeti così come il completamento di Santa Maria Valle ma la cosa che più mi preme è la possibilità di far nascere e sorgere a Pineto un caspo un centro di avviamento allo sport parolimpico perché se c'è un tema che più mi è stato a cuore in questi anni è stato il tema dell'integrazione dello sport tra disabili e normodotati ed è un tema su cui abbiamo insistito tantissimo ospitando tante manifestazioni sportive intorno al tema della disabilità fino ad ospitare proprio qualche mese fa la settimana parolimpica insieme al ritiro della nazionale diciamo decine e decine di attività parolimpiche abbiamo avuto anche la testimonianza con la presenza del presidente nazionale del comitato italiano parolimpico pancali che è stato un momento importante che ha testimoniato quanto di importante insomma stesse facendo la nostra città siamo arrivati alla fine di questa lunga intervista qual è il messaggio che vuole dare ai cittadini il messaggio che vogliamo dare ai cittadini un po' è lo slogan della nostra campagna elettorale continuare a far crescere Pineto continuare a crescere insieme dare la possibilità a Robert Verrocchio di fare un secondo mandato per portare avanti grandi obiettivi come quelli che ho elencato adesso e tanti altri che ovviamente per ragione di spazio non posso raccontare adesso in questi pochi minuti ma che continuerò a raccontare nell'ambito di questa campagna elettorale che stiamo affrontando con sobrietà con umiltà e soprattutto con il cuore grazie mille a Robert Verrocchio sindaco uscente del Comune Pineto candidato con la lista Scegliamo Pineto ma soprattutto un grazie speciale a voi amici telespettatori che ci avete seguito in questa lunga puntata di Speciale Elezioni Grazie mille a tutti